Un piccolo piano Marshall. Antonio Dintino, presidente del Lance, l'Associazione Nazionale dei Costruttori ed Ili di Chieti e Pescara, definisce così la misura del 110% super bonus introdotto nel 2020 dal governo Conte, l'agevolazione fiscale che consente di detrarre le spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. A parlarne al Tg8 è proprio il presidente Dintino. Il settore dell'Ili si è molto esposto sul super bonus, ci ha creduto, ci crede ancora e si è dimostrato che hanno fatto bene perché ha dato un PIL importante e maestranze impiegate importanti. Non ci dimentichiamo che abbiamo 32 milioni di appartamenti solo privati in Italia, l'80% costruiti oltre 50 anni fa e quindi vanno rigenerati. Quindi questo era un piccolo piano Marshall che poteva dare l'infa sia al settore delle costruzioni ma soprattutto all'economia di un intero paese. Noi stimiamo qualcosa come in 50 anni 6 mila miliardi di interventi per la rigenerazione urbana e si può fare soltanto con gli incentivi. Purtroppo questa cosa non è piaciuta al governo Draghi, molto probabilmente perché non piaceva lo scambio virtuale dell'economia, però oggi noi assistiamo al fatto che tutte le parti politiche sono a favore del super bonus e quindi noi riteniamo che si possa ripartire. Quello che ci preoccupa è che si parla di un degalage, vogliono abbassare e uniformare il bonus all'80%, noi riteniamo che non sia la cosa migliore per poter fare rigenerazione urbana e fare PIL economia perché in ogni condominio c'è sempre una famiglia che o non ce l'ha o non può spendere quei soldini e quindi inficerebbe a tutti gli altri di poter usufruire di un bonus all'80%. Allora se degalage ci deve essere, magari partiamo anche dal 50%, ma per essere una misura sociale lo dobbiamo fare con l'ISE. Allora chi ha un'ISE bassa continuerà a usufruire di un 110%, magari anche un 120%, chi ha un'ISE alta magari parte dal 50%. Per lo Stato forse i conti torneranno uguali, ma sarà sicuramente una misura più sociale e più utile per far partire i cantieri.